I ragazzi del centro hanno preparato una festa per ringraziarlo e quindi a breve se la durevano qua. Possiamo pensare che non sia più utile, ma questa cosa può essere davvero utile per qualcuno che ha il mondo. Dare un valore a qualcosa che è davvero importante, perché se lo facciamo, dovremo essere le richiest people in the world. Il signore, il capo, il capo della struttura, guardate che grandi che sono, sono fenomenali ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti i persone che mi aiutarono a fare questo tipo di evento. E anche importante, i lanci che avevano 100 e 100 lanci per libero dall'Italenti, che è un'azienda molto seriosa italiana, quindi ho detto anche grazie al mio staff dell'Italia e al sponsor. Grazie a tutti. Oh, voglio perdere una persona di voi. La persona non arriverà alla fine del viaggio, ci abbiamo provato con Milena, anzi ci abbiamo provato inizialmente con Simone Cossignani, che l'abbiamo fatto in Italia. Non so che cosa posso aggiungere ancora. Mi piace. Ciao amici. Poi abbiamo perso momentaneamente due persone perché si sono andati, si sono dileguati verso Gerusalemme. Per Petra andiamo bene? Andiamo bene, andiamo bene. Bisogna fare qualche chilometro però ancora. Ah, quindi ci sono quasi. Sì, ci siamo. Ma ancora non sono tornati, perciò non è detta l'ultima parola. Però il tentativo c'è stato. Il tentativo c'è stato. E l'ultimo tentativo è stato con questa splendida fanciulla. E' una tipa che osa, un po' il sandwich, piace il sandwich, dice la Millie. E stasera, il momento era opportuno, il change di macchine, di persone all'interno delle macchine, l'abbiamo appositamente lasciata a piedi. Ci siamo alleggeriti, abbiamo lasciato la Millie, per cui adesso dobbiamo andare a recuperarla. Hello. Stiamo andando a recuperare la Millie. A recuperare? A recuperare significa a prendere, a prendere la Millie. No, no, proprio. Perché Millie magari è un po' fredda e preoccupata. Però lei, giusto bene. E abbiamo anche visto in scena. E abbiamo anche visto in scena. E ci sono in scena retro ed ho detto, guarda guarda, guarda, c'è tutto a correre! Ma è anche veloce, poi. Che occupa! No, io pensavo che fossero partiti per farmi uno scherzo. Non penso, ho fatto anche di corsa. Mi sono corsa dietro. Oh 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 oh... Stara facendo una carriera, mi sono corsa dietro. La Millie, poverina! dietro perché no più che altro che sai senza senza internet senza niente non sapevo neanche come cacchio chiamarvi su barra for joke mille is deseparicida ok la Sì, ok, sì. Sì, fino alla fine. Sì, sì. Se hai un numero o qualcosa che puoi chiedere, se hai un numero o qualcosa che puoi chiedere, se hai un numero, se hai un numero o qualcosa, magari si puoi chiedere. Sì, sì. Sì, fino alla fine. Sì, sì. Niente, vado subito recuperato da Millie. Ragazzi, chi manca? Sto cazzo! Diferenti risorse? Sì. Grazie a voi. Marcel. Marcel, sì. Questo è un centro di comunità, è un bellissimo. Cosa è? Un centro di comunità. È possibile andare all'interno? Sì, ovviamente. questo è tipo un centro sociale. Molto bello. Bellissimo. Tämmeno. No, siamo sui. Oh, no la sel Ass respuesta io mi se sa. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Negocio di specie botonico ragazzi